L'impegno dei giocatori non si può discutere, forse è mancato un po' di concentrazione, ecco, nei momenti cruciali della partita. Gli avversari si sono dimostrati più concreti e determinati e hanno saputo approfittarne. Siamo ai titoli di coda. Al commento tecnico c'era Luca Marcheggiani, vi ringrazio. Grazie Fabio, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!